Allora buongiorno ragazzi, buon giovedì a tutti quanti, siamo quasi vicino alla fine della settimana per fortuna. Allora ragazzi, la MA Digital Market non smette mai, Jantolo è una potenza, è un vulcano di idee pronte ad esplodere. Allora, intanto vi faccio vedere il sito meraviglioso, sito internet che potete trovare tranquillamente su internet, questo è il nostro sito internet ufficiale. Allora, trovate tutto, praticamente tutto, il primo negozio online, eccolo qua, primo negozio online. Trovate praticamente di tutto, ma la cosa ragazzi, 62.299 visite, cioè il nostro sito è stato visitato da 62.300 persone. Eh, questo è, ci fa piacere perché stiamo crescendo, ci fa piacere perché Jantolo, ripeto, è un vulcano di idee. Questo è il nostro sito, di nostra proprietà, della MA Digital Market, dove trovate praticamente tutto. Eccolo qua. Insomma, 62.300 visite non è poco. Trovate tutte le nostre, diciamo, la nostra scheda della nostra azienda. Eccola qua. Questo sito web e di proprietà di MA Digital Market. E siccome Jantolo è un vulcano di idee, finalmente apriamo il secondo negozio online. All'interno del sito trovate il primo, quello che è nato col sito. Finalmente siamo riusciti, apriremo il secondo negozio online, dove anche per scaricare programmini, visitare il nostro sito, prendere le previsioni che trovate in omaggio. Perché vi ricordo che qui le previsioni, se non riuscite a vedere un video, potete andare all'interno del nostro sito e praticamente trovate le previsioni aggiornate. Trovate tutto quanto. E finalmente siamo riusciti ad aprire il secondo negozio online. Questo per facilitare anche le cose, per facilitare alle persone di poter scegliere tutti i prodotti che vogliono all'interno di questo secondo negozio online. Per questo ringrazio in primis Maurizio Jantolo che, ripeto, lui vuole arrivare ad aprire fino a 10 negozi online. E io lo appoggio molto volentieri. Ringrazio anche lo studio legale Meneghini, studio legale associato Meneghini, che si sta occupando di aprire appunto questo secondo negozio online. Perché come sapete ci vanno i permessi, ci va tutta una cosa. Siccome questo negozio online deve essere agganciato al sito internet e ovviamente deve essere una cosa registrata in comune con tutte le sue. Questo è un brand, perciò praticamente ci vanno tutti i permessini. Finalmente i permessini ci sono arrivati e questo ci fa piacere, anche perché forse che come azienda siamo una delle più irregole. Vabbè, comunque finalmente apriamo il secondo negozio online. Vi ricordo che all'interno non solo trovate i nostri prodotti, ma troverete anche le previsioni, vedete, in omaggio. Perciò ecco perché dovete visitarlo, perché su questo sito trovate apposta le nostre previsioni anche in omaggio. Questo secondo negozio online è frutto di tanto lavoro dietro. Sapete che c'è tanta gente che lavora dietro, compreso, lo ripeto, le ringrazio ancora allo studio associato Meneghini, studio legale associato Meneghini, perché si sta occupando di tutta la parte burocratica, perché almeno tutto in regola, tutto registrato. E perciò gli mandiamo un grosso abbraccio a lui, lo suo studio e le tre fantastiche ragazze, le tre assistenti di questo studio. Perciò, che dire, un passo avanti, grazie a voi, questo sempre grazie a voi. Poi ovviamente questo è il risultato, avere un sito internet e neanche in un anno avere 60.000, 62.300 visite. Vabbè, ci fa piacere, ci fa piacere. Allora, mi raccomando, le previsioni ve le ho date ieri, non voglio essere ripetitivo. Eccole qua, queste sono le previsioni in gioco, le continuiamo, vi ricordo che il Roma-Napoli e il Venezia nazionale si continuano fino a sabato, perché è la prima estrazione del mese. Ovviamente chi ha le quattro bellezze sa già qual è l'ambo che deve andare a giocare, una delle previsioni più forti che ho consigliato. Ragazzi, grazie a tutti dalla MI Digital Marketer, anche internazionali, vi mando un grosso abbraccio da parte mia, da parte di Maurizio Jantolo e ringrazio ancora una volta, ripeto, il fantastico studio legale associato Meneghini, 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 non mi ricordo, vabbè, Meneghini, Meneghini, perché sta facendo un lavorone veramente fantastico per... i permessi sono arrivati. Prossima apertura, tempo un mesetto, e vi presenterò il nuovo secondo negozio online della MI Digital Marketer. Ragazzi, da Maurizio è tutto, e come dico sempre io, un besos a tutti. Ciao ragazzi!